Buongiorno Daniel, oggi è mercoledì 24 luglio, questo significa che manca esattamente una settimana a mercoledì 31 luglio e sapete cosa succederà il 31 luglio? No, non lo sapete, ve lo devo dire io. Il 31 luglio segnerà l'ultimo ufficiale giorno di questo podcast, sì, il buongiorno terminerà ufficialmente, così come lo conosciamo, il 31 luglio. Dopo la terminazione ufficiale mi prenderò un meritato periodo di pausa. Almeno fino a fine settembre non pubblicherò con cadenza regolare robe su questo canale o su altri social, magari pubblicherò qualcosa che ho già mezzo preparato, quindi qualche cosa ci sarà, ma diciamo una presenza costante sarà sicuramente messa in pausa per un periodo così di riposo e transizione. Cambieranno molte cose in realtà nella mia vita professionale, poi magari vi racconterò, anzi, il 31 luglio potrei fare una live pranzolina, a ora di pranzo, magari una mezz'oretta, un'oretta insomma in live in cui raccontare un po' di cose, però insomma ecco l'annuncio ufficiale è che il buongiorno da Edo terminerà come podcast quasi daily, ufficialmente il 31 luglio. Poi da settembre-ottobre in avanti vedrò come ritalibrare la mia creazione di contenuto online, voglio provare cose nuove, voglio provare a raggiungere anche un audience più ampia e cercare di rendere questa cosa anche un pochino più sostenibile perché effettivamente l'impegno richiesto per fare questa roba, voi magari non ve ne rendete conto, ma è abbastanza gravoso e quindi devo cercare di ricalibrare un pochino perché altrimenti non gliela faccio e vado in fuori giri. Quindi insomma abbiamo ancora una settimanina, vediamo quanti episodi riuscirò a fare di questo podcastino, però poi ecco il 31 sarà effettivamente l'ultimo e sui canali podcast quella roba chiuderà, poi vedremo in futuro che cosa riusciremo a fare, cosa ci riserverà, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Intanto ecco questa roba qua, ci saluteremo per l'ultima volta e poi ci rivedremo presso altri Lidi. Quindi non vi sto a salutare, ringraziare e fare adesso perché tanto abbiamo ancora qualche giorno, ci saluteremo ufficialmente il 31 luglio, magari se vi va anche, poi se farò questa live ve lo dirò nei prossimi giorni, quindi magari venite a salutarmi, ecco a fare due chiacchiere. Basta, adesso però vi do due news importanti, interessanti, una riguarda l'AI, perché Meta ha presentato il nuovo modello di AI ed è interessante vedere che cacchio è, e poi degli update su CrowdStrike, sono uscite delle nuove cose frizzanti, le vediamo insieme. Allora vi dicevo, partiamo da Meta perché Meta ha lanciato un nuovo modello, il modello, il successore di Lama 3, in realtà non è proprio un successore nel senso, non è una major release, non è Lama 4, è Lama 3.1, però ha diverse novità interessanti. Vado a leggere sul Guardian, nella sua sezione di AI, che vi ricordo di essere piuttosto interessante, dice che Meta, appunto ha parlato di questo nuovo modello di intelligenza artificiale, che è il primo open source system, così lo chiama Meta, che appunto può competere con prodotti come OpenAI e Antropic. Attenzione che qua la definizione di sistema open source o di modello open source è parecchio controversa, poi la rivedremo, però come abbiamo già detto in passato, open source è una definizione che non è così generica, vaga, che ognuno lo può applicare quello che vuole, open source è una definizione molto precisa, data dalla open source initiative, e quindi insomma bisognerebbe rispettare quella roba. Meta non lo fa, ma va bene. Allora, in un blog post l'azienda ha detto che questo nuovo modello, che ha il nome di Lama 3.1 405B, dove vi ricordo che B è billion e sarebbe il numero di parametri del modello, comunque è competitivo con gli altri, inclusi OpenAI e Antropic, su una serie di task. In realtà il modello di OpenAI dovrebbe avere molti più parametri, però sappiamo, ormai abbiamo capito, che non è soltanto il numero di parametri che ci dice quanto è buono, quanto è efficace un modello. Ci sono varie questioni da tenere in ballo, quindi il modo migliore forse per analizzare la capacità effettiva di un modello è andarlo a testare, quindi dovremmo aspettare anche dei test indipendenti. Quindi prosegue l'articolo del Guardian, se questo è vero significa che per la prima volta uno dei più potenti modelli del mondo è disponibile senza dover passare per un intermediario che ti fa pagare l'accesso o controllare la tecnologia, perché essendo appunto questo modello open source, tra virgolette, chiunque lo può scaricare e installare, però data la grandezza del modello non è esattamente così semplice. Comunque, dice Meta, i sviluppatori possono personalizzare completamente il modello a seconda delle loro applicazioni e dei loro bisogni, possono allenarlo su nuovi dataset e possono fare ulteriore fine tuning. Questo permette a una developer community molto più ampia nel mondo di ottenere il potere dell'AI generativa e customizzarla a seconda proprio dei loro ambienti, dei loro bisogni, senza dover condividere questa roba, i loro dati, con Meta. Poi, prosegue l'articolo, quelli che usano lama sulle app di Meta, dove è disponibile, per esempio adesso è disponibile solamente negli Stati Uniti, avranno ulteriori livelli di sicurezza. Questo dice la compagnia, qualunque cosa questo voglio dire. Comunque, anche questi livelli di sicurezza sono open source e la compagnia non ha modo di forzare le altre aziende, insomma gli utilizzatori del modello, ad applicarli sui loro usi del modello stesso. E dice Mark Zuckerberg in un blog post, io penso che l'open source sia necessario per il futuro positivo dell'AI. L'open source ci assicurerà che molte persone intorno al mondo avranno accesso ai benefici e all'opportunità dell'AI e che questo potere non sia concentrato nelle mani di un piccolo numero di aziende e che la tecnologia possa essere deployata ancora più, diciamo, in sicurezza intorno alla nostra società. Dice inoltre Zuckerberg che è preoccupato che degli attori malvagi possano usare l'intelligenza artificiale per costruire, per fabbricare delle nuove minacce, insomma. Ma pensa che sia meglio vivere in un mondo dove l'AI è deployata proprio molto più largamente cosicché degli attori più grandi possano andare a controllare, cioè proprio a verificare il comportamento di attori maligni proprio piccoli. E non appena Meta ha comunicato il rilascio del modello Lama 3.1, Amazon AWS ha subito comunicato che sono disponibili delle istanze di Amazon Bedrock, che sono le macchine su AWS dove si può far girare appunto dei modelli di intelligenza artificiale generativa. Ecco, su queste macchine è disponibile anche Lama 3.1 nelle tre varianti, cioè nelle tre diverse varianti con diversi numeri di parametri, cioè 8 miliardi, 70 miliardi e appunto la più potente 405 miliardi. E dice anche che tutti i modelli Lama 3.1, questo sto leggendo l'annuncio ufficiale di AWS, dice che tutti i modelli Lama 3.1 supportano una context window da 128.000 token, 128.000 parole quindi, che è un incremento rispetto alla finestra da 120.000 token di Lama 3, che questo modello ha 16 volte la capacità dei modelli precedenti Lama 3, e che sono migliorate le capacità di ragionamento e di dialogo in almeno 8 lingue, inclusi l'inglese, il tedesco, il francese, l'italiano, il portoghese, l'indie, lo spagnolo e il thailandese. Quindi, se siete utenti di Amazon Bedrock, ora potete andare a sperimentare i modelli Lama 3.1. Potete anche naturalmente scaricarveli dal sito di Lama stesso, oppure provarli su Hugging Face. E ci dice The Verge, Lama 3.1 è significativamente più complesso del più piccolo Lama 3, che è uscito pochi mesi fa. La versione più larga ha 405 miliardi di parametri, ed è stata allenata su più di 16.000 ultra expensive, quindi super costose, GPU Nvidia H100. E quindi qui la riflessione, visto il costo di questo allenamento, questo addestramento, perché Meta lo sta rilasciando gratuitamente, tra virgolette, cioè con una licenza che richiede soltanto la sua approvazione se usata in contesti con aziende da milioni, centinaia di milioni di utenti. Beh, qui c'è la famosa lettera di Zuckerberg che abbiamo citato prima, dove dice che i modelli open source AI alla fine saranno quelli che vinceranno nel mondo e vinceranno la sfida con i modelli proprietari. E il passaggio più significativo, secondo me, della lettera di Zuckerberg è dove dice io credo che la release di Lama 3.1 sarà un punto di flessione nell'industria, dove molti sviluppatori inizieranno a autorizzare primariamente modelli open source. Quindi questa in pratica è un po' una sua scommessa, no? Cioè lui vuole rilasciare modelli open source sempre più potenti e scommette sul shift del mercato degli sviluppatori verso i modelli open source, i modelli AI open source, ancora open source usato tra virgolette, perché non sono licenze ufficialmente supportate dalla open source initiative, ma se questo succederà, ecco, Meta sarà in prima fila, con dei modelli molto potenti, già open e quindi già pronti per lo shift del mercato. E la release open di questo modello include anche i pesi, quindi è quello che molti definiscono open weight, no? Cioè i pesi rilasciati insieme al set di addestramento e al modello stesso. E qua i pesi, se non vi ricordaste cosa sono, praticamente fanno parte dei parametri del modello. Quando un modello ha il numero di parametri, cioè quando vedete il numero di parametri, in questo caso 405 miliardi, ma anche versione più piccole, no? Quei parametri, no? Quei miliardi, triliardi di parametri, anche nel caso dei modelli ancora più grandi, sono variabili utilizzati per configurare le connessioni della rete neurale e vengono di volta in volta modificate proprio durante il processo di addestramento. I pesi sono quindi una parte di tutti questi parametri e avere un modello che rilascia anche i pesi significa vedere come questo modello è stato configurato e poter meglio sfruttarlo, meglio customizzarlo, ecco, in fase di fine tuning, sapendo come appunto è avvenuta la fase di training. Ecco, però, aggiungere articolo, invece, non sappiamo molto di quanto riguarda i dati con cui questo modello è stato allenato. Quello che Meta dirà è che sono stati usati dati sintetici, cioè dati generati da altri modelli invece che da esseri umani, quindi in pratica per mettersi al riparo dall'accusa di scraping oppure di utilizzare, peggio ancora, i dati dei suoi utenti sui social network, una cosa che magari in certi contesti, guardo per esempio all'Europa, non si potrebbe fare. Comunque, Ahmad Al-Dali, che è il VP della generazione di AVI di Meta, ha detto, rispondendo ai dubbi sul fatto che ormai l'allenamento dei modelli stia raggiungendo un cap, un limite, perché non ci sono più nuovi dati su cui allenarli, che in realtà c'è un limite, un cap che si sta per raggiungere, ma in realtà questo limite è più lontano di quello che si pensa in questo momento. Ci ha detto anche altre cose interessanti, per esempio che c'è stata una lunga fase di red teaming, cioè dei test di sicurezza, di cyber security, per controllare proprio il comportamento del modello, anche perché questo modello è in grado di avere comportamenti da agente, cioè di eseguire delle operazioni, per esempio andare su internet, per cercare nuovi dati per poter rispondere meglio ai prompt di un utente. Ora, questa implementazione del modello Lama 3.1 Meta la offrirà sia attraverso le sue varie app, quindi su Instagram, su WhatsApp, su Facebook, ma anche attraverso un chatbot, che lui rilascerà sulla app di Meta AI, che sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti, perché poi in Europa, a causa delle leggi che abbiamo, il GDPR, eccetera, questa roba ancora non può essere rilasciata finché non ci sono tutte le certezze che le leggi siano rispettate e proprio nell'app di Meta AI è possibile sì utilizzare il modello più largo, da 405 miliardi di parametri, ma dopo un po', dopo un certo numero di prompt, l'app ti switcha automaticamente al modello più piccolo, alle versioni più piccole e questo suggerisce appunto che per Meta il costo di far girare questa versione grande del modello sia addirittura insostenibile, quindi non riesca a fornire gratuitamente a propri utenti la potenza di questo modello. Peraltro c'è una nuova feature in Meta AI che si chiama Imagine Yourself, dove praticamente ti permette di farti un selfie e di utilizzare la tua faccia nelle foto che genera, per generare te stesso, insomma, in vari contesti. E credo che utilizzi, come dice anche l'articolo in realtà, utilizzi la foto, insomma il selfie, per impedire che vengano utilizzate delle altre immagini, quindi la creazione di deepfake. E su The Regist trovo anche altri dati tecnici sull'addestramento di questo modello e dice proprio Facebook che addestrare il modello ha richiesto l'equivalente di 30.84 milioni di ore GPU e ha prodotto l'equivalente di circa 11.390 tonnellate di emissioni di CO2. Io ho fatto anche dei conti, aspetta che li recupero. Praticamente 11.390 tonnellate di CO2 equivalrebbero circa a 22-23 voli transatlantici di andata e ritorno. Oppure l'uso annuale di circa 2.500 auto o il consumo energetico annuale di circa 1.300 case americane medie. Boh, così, qualche numero. Ora, se state pensando bene questo modello di open source, me lo posso scaricare e eseguirlo sulla mia macchina per diventare il king dell'AI nel mondo. In realtà sappiate che per far girare un modello da 405 miliardi di parametri avreste bisogno di circa 810 GB di memoria RAM per farlo girare alla sua massima precisione in 16 bit. Cioè, per mettere questo in prospettiva, questo è più di quello che può gestire un sistema NVIDIA DGX H100, che sarebbero 8 acceleratori H100 in un box, insomma. Questo è un pochino oltre le vostre possibilità domestiche, insomma. E proprio per questo Meta ha rilasciato anche una versione quantizzata a 8 bit del modello, che taglia un po' la memory footprint, cioè l'uso della memoria. Se non vi riguardate cosa significa quantizzare un modello, beh, pensate che i parametri del modello sono appunto a 16 bit, come in questo caso, la quantizzazione li riporta, li mappa su equivalenti a 8 bit. Naturalmente si perde precisione, ma si diminuisce della metà la dimensione della memoria del modello. Quindi la quantizzazione, proprio quel processo per cui prendiamo i parametri di un modello, li rimappiamo su valori più piccoli in bit per diminuire appunto il consumo di memoria. Comunque questa è la pagina del sito di Meta dove trovate Lama e dove potete scaricare Lama 3.1, è su lama.meta.com, qua vedete tutti i download di tutte le varie versioni del modello, se proprio volete provarlo voi in casa, con un po' di esempi, un po' di studi, insomma un po' di paper, per vedere se volete studiare ancora di più come è stato fatto questo modello. Oh, e passiamo agli aggiornamenti frizzanti su CrowdStrike, naturalmente una questione molto grande che non finirà certo qui, ci accompagnerà anzi fino alla fine dell'estate. Ecco sappiate intanto che ci sono diverse persone che stanno sfruttando il casino per distribuire del malware fondamentalmente. CrowdStrike stessa sta mettendo in guardia i propri clienti che stanno girando dei manuali di recovery creati da Microsoft in realtà, recovery naturalmente da questo disastro, che in realtà sono stati copiati e alterati con del malware. Già da venerdì stavano iniziando a girare dei, insomma, del phishing di questo tipo, in particolare qua c'è un malware che si chiama Daol Pu, che dovrebbe venire dal Vietnam, comunque da quell'area geografica, è stato poi scoperto, che è una copia appunto di un documento di Microsoft, un documento Word di Microsoft. In questo documento c'è praticamente delle macro, ci sono delle macro che quando abilitate scaricano un file DDL encodato in B64, che se poi viene eseguito lancia questo Daol Pu, che è un infostealer, quindi un software che va a rubare i dati del computer. Praticamente termina tutti i processi Chrome che sono in esecuzione e prova a collezionare dati di login, i cookie anche, salvati su Chrome, Edge, Firefox e altri browser disponibili in questo malware. E è una roba che è successa, ecco, fin dall'inizio. Daol Pu è soltanto l'ultimo degli esempi di phishing e di malware distribuiti per sfruttare proprio la disperazione dei clienti di CrowdStrike, e quindi bisogna stare molto attenti alle mail che si ricevono anche mascherate da supporto CrowdStrike e tutti i documenti che si trovano in genere in rete perché ci sono alcuni che contengono del malware. E ho letto poi un articolo molto interessante su The Register, sulle lezioni che gli amministratori di sistema hanno imparato da questo casino, in particolare sul tema dei delayed updates, cioè sulla tecnica di ricevere degli update non all'ultimissima versione di un software, di un software critico naturalmente, ma a una o due versioni precedenti. Questo per asseguarsi naturalmente che il software sia stabile. Il problema in questo contesto è che anche se questi update in ritardo, questi update posticipati, erano in realtà attivati, anzi CrowdStrike stessa consiglia nei suoi manuali di attivare un update N2, cioè di attivare questo update ritardato di due release del software. E praticamente, dicono molti amministratori, la maggior parte di clienti CrowdStrike ha attivato questo processo, quindi quasi tutte le istanze CrowdStrike sono aggiornate a due release precedenti. Il problema è che, e qui dovesse andare alla mia puntata precedente, dove ho spiegato come funziona CrowdStrike, il software di CrowdStrike è aggiornato con un ritardo di due release, ma i file che contengono le definizioni del comportamento dei malware, eccetera, cioè quei file che poi sono risultati nella corruzione del driver del kernel, ecco quei file invece non seguono questo procedimento, vengono aggiornati in tempo reale, e questo ha provocato il casino. Il problema è che gli amministratori di sistema non lo sapevano, non sapevano che N2 significa update ritardato al core di CrowdStrike e all'agent, non ai file di configurazione. Naturalmente c'è una buona ragione per cui questo è stato fatto, perché quei file contengono le definizioni sul comportamento di malware, escono nuovi malware ogni giorno, quindi quelle definizioni devono essere aggiornate. La colpa in questo caso non sembra essere degli amministratori che non sapevano dell'update frequente dei file di configurazione, ma del processo di testing di CrowdStrike stessa, che ha rilasciato un file di configurazione del sistema appunto malformato contenente un bug. E proprio per queste sue colpe il CEO di CrowdStrike, George Kurz, è stato chiamato a testimoniare dal comitato di Homeland Security negli Stati Uniti, quindi alle 17 Eastern Time, quindi comunque nella giornata di oggi più tardi, dovrà apparire appunto di fronte a questo comitato per spiegare come tutto questo sia stato possibile. E dice la lettera del comitato con cui hanno chiamato a testimoniare George Kurz, dice non possiamo ignorare la magnitudine di questo incidente che qualcuno ha detto essere il più grande IT outage della storia. In meno di un giorno abbiamo visto dei major impact, quindi degli impatti enormi, in funzioni chiave della economia globale, inclusi il trasporto aereo, la sanità, le banche, i media e servizi di emergenza. Quindi questo potrebbe essere un nuovo SolarWinds, questo fatto di CrowdStrike potrebbe essere un nuovo SolarWinds, vi ricordate SolarWinds quando la catena di approvvigionamento, la supply chain di SolarWinds distribuì un malware, una backdoor nei propri update automatici, quello era un attacco di cyber security, questo non lo è, ma dal caso SolarWinds poi partirono tutta una serie di iniziative e di leggi, anche in Europa per esempio abbiamo il CRA, partito proprio da quelle discussioni attorno al caso SolarWinds, beh, CrowdStrike potrebbe essere una nuova SolarWinds, potrebbe essere un punto di svolta da cui partiranno nuove discussioni che potrebbero portare a cambiamenti anche significativi nel modo in cui le aziende gestiscono questo tipo di aggiornamenti. Infatti la lettera del comitato poi prosegue dicendo questo incidente deve servire come un avvertimento globale per quanto riguarda i rischi per la sicurezza nazionale associati con la dipendenza, con la rete di dipendenze. Perché poi anche degli attaccanti malintenzionati, supportati magari da stati e nazioni, come, e vengono citati esplicitamente, Cina e Russia, stanno guardando attentamente come il mondo occidentale, tra virgolette, sta reagendo a questo incidente. E conclude dicendo che visto che gli americani subiranno gli effetti di questo incidente ancora per lungo tempo, meritano di sapere i dettagli di come questo sia potuto succedere. E ulteriori dettagli stanno effettivamente emergendo. CrowdStrike, nella sua guida alla remediation, quindi al rimedio all'incidente, ha pubblicato ulteriori dettagli tecnici su come questo sia successo. Non ci sono specifici dettagli, non c'è una disclosure del codice che ha prodotto questo dettaglio, ma si fa ancora riferimento alle varie speculazioni uscite che questo fosse dipendente dai null bytes, quindi da tutti quegli zeri presenti nel channel file, poi oggetto del disastro. E come analizzato dagli esperti di security come il guru di Google Project Zero, Travis Ormandi, e il fondatore di Objective-C, Patrick Wardle, che avevamo citato anche ieri, praticamente questo sembra a tutti gli effetti essere un problema di gestione della memoria, un puntatore a un'area di memoria non permessa. L'avevamo detto anche ieri. In pratica sembra che questa sia la causa fondamentale, cioè il tentativo del programma del kernel di accedere a un'area di memoria che non può essere acceduta in quel momento. E sembra, riguardo a questi nuovi dettagli, appunto che Falcon vada a leggere delle righe da una tabella in memoria e faccia un ciclo usando quelle righe come puntatori alla memoria per altro lavoro. Almeno una di queste righe, almeno uno di questi dati in quella tabella non era corretta o non era presente in quel file di configurazione. E invece in quella tabella ci fosse quello che qua viene definito garbage value, quindi della spazzatura, qualcosa di corrotto, qualcosa di non corretto, quantomeno. A quel punto il codice a livello kernel ha provato a usare quei dati sbagliati, evidentemente sbagliati, non validi come puntatori alla memoria ed ecco che lì il kernel si è accorto del tentativo di accedere a una memoria sbagliata e ha mandato tutto in crash. E qui vediamo nuove dichiarazioni anche di Omkar Arasaratnam, che è, come dicevo ieri, il general manager di OpenSSF, che è anche un grande esperto di cyber security e è andato a fare le sue analisi proprio su questi nuovi dettagli. Ve li leggo, ricordatevi naturalmente la mappetta che vi ho fatto ieri sulla parte driver, la parte agent, se non l'avete vista o non la ricordate, insomma la trovate, tornate indietro di una giornata, di una puntata di questo podcast, dice Omkar, scusate se lo chiamo per nome, ma il cognome mi è un po' più difficile da pronunciare, insomma, il software CrowdStrike Falcon ha due componenti, un driver che è firmato e approvato da Microsoft che si chiama csagent.sys e poi questi channel files usati per aggiornare il software con le informazioni, con le ultime informazioni sulle security. E basandoci sullo stacktrace, il csagent.sys, quindi il driver, è stato terminato per aver tentato di accedere a una hard memoria indirizzata su 0x, insomma, tanti zeri, 9c, che è un indirizzo che non esiste. Quindi è una hard memoria a cui non può avere accesso. Il kernel dice, ah, sta provando ad accedere a una hard memoria in cui non potresti accedere, allora è meglio che io assuma che tutta la mappatura della memoria è sbagliata e mandi in crash il sistema proprio per una questione di sicurezza. Quindi dal punto di vista del sistema operativo, del kernel, questo crash è corretto perché mette a riparo il sistema proprio da accedere a pezzi di memoria in cui non ci si può guardare. E qui entra in scena un altro comportamento che è quello del flag boot start. Quindi normalmente, spiega ancora Homecar, un driver che si comporta in modo buggato e causa dei crash, dei fallimenti come questo, ecco, Windows praticamente non lo skip nel prossimo boot non lo ricarica per far sì che poi il sistema si carichi correttamente. Quindi non carica un driver che ha causato un precedente crash. Ma c'è un flag chiamato proprio boot start che se viene settato sul driver, ecco, questo non va in contro a questa pratica. Quindi Windows cercherà comunque di caricarlo. Questo è riservato per dei driver critici per il sistema come per esempio quelli dell'hard disk, no? E come abbiamo visto, provando a ricaricare continuamente questo driver al boot, la macchina continuava ad andare in loop e continuava a riavviarsi da sola. E quindi per concludere sembra proprio palese che quel file non sarebbe dovuto passare dalla QA di CrowdStrike. Quindi è il processo di QA di CrowdStrike che è problematico, che è fallato perché non doveva permettere il deploy massivo di quel file. E ultimo colpo di scena, CrowdStrike ha anche spiegato o cercato di spiegare perché il processo, il suo processo di QA ha permesso il passaggio di quel file dannato. Il problema sarebbe in un bug del suo processo di testing, del software che lei usa per testare i suoi channel files. Dice praticamente, vi leggo qua la spiegazione tecnica fornita proprio da CrowdStrike e si apre con il dettaglio di come funziona il sensore di Falcon che è praticamente del sensor content che definisce le sue feature, le sue capabilities. Ecco, questo software è aggiornato con rapid response content che gli permette di fare detection di nuove minacce. Insomma, il sensor content si basa su dei template types che è codice che include proprio le definizioni per rispondere a nuove minacce. A febbraio 2024 CrowdStrike ha introdotto un nuovo IPC quindi Interprocess Communication template type che è stato creato per fare detection di una nuova modalità di attacco che abusa delle named pipes come vi dicevo ieri. Questo nuovo IPC template type ha passato i test il 5 marzo e quindi è stato rilasciato questo template per fare detection delle minacce sulle named pipes. Dopo il 5 marzo altre tre istanze di questo template IPC sono state deployate tra l'8 e il 24 aprile e tutti questi deploy sono avvenuti senza crashare le 8,5 milioni di macchine Windows che abbiamo visto venerdì anche se come abbiamo detto anche ieri alcune macchine Linux hanno in realtà avuto diversi problemi proprio dagli aggiornamenti di CrowdStrike in aprile. A questo punto il 19 luglio CrowdStrike ha introdotto due nuove istanze due nuovi template per IPC e uno di questi template includeva quei content data problematici buggati con quella tabella che portava poi a indizzi sbagliati in memoria e quel file ha passato tutta la linea di produzione ed è stato poi deployato per quello che CrowdStrike descrive come un bug nel content validator. Non ci sono dettagli su cosa sia questo content validator dobbiamo assumere come dice The Register che questo faccia quello che dice il suo nome quindi che cerchi di validare il contenuto ma insomma qualunque cosa si si aspetta che faccia questo validator insomma non ha prevenuto la release di quel file buggato il 19 luglio portando a quello che sappiamo e questo è avvenuto perché CrowdStrike ha assunto che gli stessi test le stesse validazioni che avevano permesso il deploy di febbraio e di aprile fossero ok anche per la release del 19 luglio evidentemente però non era così poi questo report ulteriore da CrowdStrike si conclude dicendo che ci saranno nuovi più rigorosi test nelle prossime fasi nelle prossime release offriranno ai clienti più controllo su quando deployarli e poi offriranno anche delle release notes eh sì avremo le release notes è utile e comunque CrowdStrike ci dice che saranno rilasciate in futuro anche tutte le note tecniche tutti gli dettagli tecnici sulle analisi le cosiddette RCA no le root cause analisi quindi avremo in futuro un ulteriore dettaglio tecnico ancora più specifico su come tutto questo sia potuto succedere si conclude l'articolo di registro dicendo sì sì prendetevi tutto il tempo che volete tanto stiamo ancora cercando di ripristinare i sistemi che voi avete rotto ok vi lascio due bei link per concludere anche il buongiorno di oggi il primo è la lettera di Mark Zuckerberg dove parla di open source rimando sempre tra virgolette open source AI si intitola open source AI is the path forward la trovate su about.fb.com vi lascio comunque il link che vi consiglio di leggere per capire ecco la visione di meta e di Mark Zuckerberg sul futuro dell'AI cosiddetta open source e inoltre vi punto a questo interessantissimo articolo di Brandon Gregg che si intitola no more blue fridays dove parla di uno scenario futuro in cui i computer non crashino per un problema dovuto al driver del kernel puntando su nuove tecniche di patch al kernel in particolare su ebpf tra l'altro ho scoperto da questo articolo che esiste un supporto ebpf anche per il kernel di windows ebpf è una cosa che esiste su linux però pare che anche per windows esisterà microsoft lo sta realizzando e sarà production ready a breve quindi avremo ebpf anche su windows e quindi potrebbero esserci delle tecniche di patch al kernel che ecco ci eviteranno questo disastro vi consiglio di leggere per restare anche aggiornati su queste nuove tecniche di kernel e ho finito qui grazie per avermi seguito anche oggi indosso questa maglietta come to code perché il 28 settembre sarò a pignola a promizio di potenza proprio per come to code parlerò di react server components in una manifestazione bellissima ci saranno un sacco di colleghi un sacco di gente gli organizzatori sono le persone più buone del mondo più brave del mondo e più attente alle esigenze di noi esigentissimi speaker no non è vero comunque li amo e li adoro se volete insomma è una conferenza che è una delle poche che ci sono al sud di questo livello e insomma veniteci a trovare sarà divertente sarà interessante grazie di noi per aver seguito questa puntata ci vediamo alla prossima ciao